Promuovere i prodotti a miglio zero, quelli di casa nostra che dalle reti da pesca arrivano direttamente sulle tavole. Un po' come il chilometro zero lanciato tempo fa che ha già ottenuto notevole successo. Coldiretti Molise ci riprove al termine di un progetto voluto dal Ministero, organizzato una serata per mettere in contatto i sindaci della zona con i ristoratori e i produttori dell'OP San Basso. Coldiretti ha avuto l'intuizione qualche anno fa che così come si è spesa sul territorio per valorizzare il chilometro zero così era necessario ed era opportuno per i consumatori che si avviasse lo stesso percorso sulla pesca, sul pescato locale e quindi sul cosiddetto miglio zero. Da qui è nata la realizzazione di impresa pesca, impresa pesca Coldiretti che è appunto una struttura che si occupa della pesca, quindi delle marinerie per quelle regioni che hanno l'opportunità di avere il mare a fianco. L'evento rientra nel piano triennale della pesca e dell'acquacultura voluto dal Ministero per le politiche agricole e forestali e proprio impresa pesca lo divulga sul territorio. È già stata stampata una brochure distribuita a livello nazionale, una sorta di calendario culinario dove mese per mese una regione propone una pietanza a base di pesce. Il Molise è rappresentato con i muscardini in purgatorio. Ci stiamo avvicinando pian piano le imprese ittiche del nostro territorio, abbiamo qualche impresa già associata che ci segue, noi siamo a fianco a loro. Fondamentalmente il miglio zero è l'obiettivo cardine di impresa pesca, sponsorizzata appunto dai mercati di Campagna Amica dove i nostri produttori riescono a vendere i loro prodotti direttamente al pubblico, al consumatore finale. Durante la serata da spazio anche a molte degustazioni con pescato a miglio zero, muscardini e fagioli, cocktail di gamberetti, sagnette, cece, cozze, seppie e fagioli, vellutata di zucca e polenta con muscardini. Qual è l'importanza di poter degustare i prodotti a miglio zero? Allora l'importanza è la freschezza perché questi prodotti vengono prodotti direttamente, pescati direttamente appunto a chilometro zero e poi senza intermediarli arrivano e giungono sulle nostre tavole e possiamo consumarli quindi abbastanza freschi. Stasera si parla di prodotti in fin dei conti di casa nostra, come la Don Carlino li propone ai suoi ospiti? Noi proponiamo prodotti orticoli appunto fatti sui nostri terreni, chiaramente all'ospite facciamo assorgiare i nostri pomodori, i nostri fichi, i nostri meloni. Devo dire che chiaramente soprattutto per le persone che vengono dal nord sono enormemente apprezzati, per cui mi sento di dire che il nostro piccolo grande handicap è quello di non riuscire ad arrivare con i nostri prodotti lì dove il mercato sicuramente risulterebbe favorevole.